Ciao a tutti, se un uomo che frequenti ti dice che ti apprezza e ti ammira, è buon segno? Allora, dunque, questa è una domanda che mi è stata fatta. Allora, diciamo questo, che io, come al solito, non vado molto a quello che le persone dicono. Sicuramente uno che dice che ti apprezza e ti ammira, tende a buttare la cosa più su un piano dell'amicizia, a livello verbale. Quindi, perché si apprezza e si ammira, si stima, non ha nulla a che vedere con l'amore, con l'innamoramento, con il coinvolgimento. È un apprezzamento logico-razionale, ovviamente, perché quando una persona ama, diciamo così, è innamorato, tendenzialmente non dice ti apprezzo e ti ammiro. Però, questa è una sua esigenza logico-razionale, il fatto di dirla. E ripeto, quello che conta è osservare i comportamenti che metti in atto. Perché se dice ti apprezza e ti ammira e poi per te fa delle follie, rinuncia, che ne so, a fare delle cose che gli interessano per essere condiscendente nei tuoi confronti, allora vuol dire che è anche innamorato. Se invece per te non fa nulla, ti tratta come un'amica, diciamo, non vuole prendersi, come dire, nessun impegno, a parte quello sessuale così, allora significa che ti sta velatamente dicendo che se vuoi, eventualmente, ti può vedere come amica, ma come tromba amica, diciamo così, ma nulla di più. Oppure neanche quello, ti vede semplicemente come amica, non ci mette neanche in mezzo la sessualità e quindi non lo attrai neanche fisicamente. Quindi tu devi vedere i comportamenti, bisogna vedere i comportamenti. Se dimostra passionalità e se dimostra voglia di vederti, di stare con te, diciamo, e di coinvolgerti, allora è coinvolta tra c'è nel santo gradi. Se non dimostra passionalità e non fa niente, vuol dire che ti vede come amica. Però il fatto della passionalità potrebbe essere un suo vincolo, un suo limite, e magari potrebbe essere un po' impotente e quindi non manifestare in modo giusto, non avere paura magari. Quindi possono essere diverse situazioni. Comunque l'idea principale è di guardare i comportamenti che mette in atto e mai. Quello che dice conta, non lo so, l'1% o 2%, pochissimo. Bene, per questo video è tutto. Iscriviti al canale. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di, attivando la campanella, ricevere le notifiche delle live, partecipare alle live e quindi partecipando alle live potrai ricevere risposte alle tue domande e potrai anche chattare con persone interessanti. Inoltre, inoltre, se attiverai questa cosa qua, potrai appunto entrare in contatto diretto con me. Quindi durante la chat io ti risponderò anche in diretta. Seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Ciao!